papà torna subito qui andiamo è venuto il momento di pensare un po a me come metto in tasca la bella ripetizione e chi si è visto si è visto che bella dei 1720 euro è quello che è rimasto del tuo tfr smettila di fare il bambino tu vuoi trovarmi una badante voglio un escort tu sei disoccupato e c'è gente che rifiuta 5.000 euro al mese per farla badante tu sei un uomo quello vuole una donna sentito male ammazza mi è naturale mi sono fatto molto male sai ma scusi non ci siamo già visti miami india assolutamente no mi scambia per qualcun'altra sa che cosa c'è che sento di esprimere tutta la mia praturveranza 23 ma che c'hai in mezzo alle gambe da mongola a me la vita arriverà massimo ti ho fatto uno scherzato hai preso lo stringicolo ma lo sai che assomigli tremendamente alla badante del presidente è l'eva della cazzo a bruma lo teniamo per carità cristiana cosa è diventata questa città ma sai che sono molto felice di averli incontrati anche io tanto allora ciao a tutti il 21 dicembre dicembre cioè prima di natale ci vediamo tutti nei cinema giumetti sapete che massimiliano giumetti è sottoscritto è nato un feeling stai zitto tu a non parlare questi qui sono dei papabali che mi dicono allora ci vediamo alle befane e ci vedremo alla cineplex di riccione mi raccomando siateci perché quest'anno il film stai zitto tra l'altro tra l'altro di non parlare amici come prima Massimo Boldi, Cristian De Sica, regia di Cristian De Sica, regia di Cristian De Sica con Massimo Boldi è un film da divertirsi finalmente il Natale ha di nuovo senso grazie a tutti